Musica Bentrovati alla seconda edizione della TG6 Apriamo con la cronaca sia a valzo della facoltà di non rispondere Emanuele Cipressi, il 24enne di Chieti Posto in stato di fermo per la morte di Fausto Di Marco Ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsa a Chieti Scalo Davanti a un locale Questa mattina nel carcere di Madonna del Freddo Si è celebrata l'udienza di convalida davanti al GIP Luca De Ninis Intanto nel pomeriggio nella cripta della cattedrale di San Giustino a Chieti Si sono svolti i funerali della vittima Il servizio Si è a valso della facoltà di non rispondere Ovviamente poi sono state chieste dalla procura le misure cautelari Emanuele Cipressi ha scelto la via del silenzio Nell'interrogatorio di convalida dell'arresto Che si è svolto nel carcere di Madonna del Freddo Davanti al GIP del tribunale di Chieti Luca De Ninis Il 24enne accusato dell'omicidio del quarantenne musicista Fausto Di Marco A seguito di una lite scoppiata all'interno di un circolo privato di Chieti Scalo Come racconta il suo avvocato Roberto Di Loreto E provato da quanto accaduto nella notte tra sabato e domenica Beh, molto provato, scioccato E' chiaro che è una vicenda dolorosa e triste per tutti Forse anche per questo non ha voluto smentire o confermare il racconto della supertestimone Che ha portato all'arresto del ragazzo La donna ha raccontato di aver rifiutato l'approccio di Di Marco Il quale le avrebbe lanciato contro un bicchiere finito contro Cipressi Amico della ragazza che poi avrebbe reagito dando il là alla lite finita in tragedia L'autopsia sul corpo della vittima ha evidenziato una ferita profonda al collo Con margini sfrangiati che sembrerebbe confermare la prima ipotesi degli investigatori Cioè che a causare la morte di Di Marco sia stato un coccio di bottiglia Che gli ha reciso la carotide di sanguandolo Ora spetterà il GIP decidere quale misura cautelare adottare Io ritengo che la vicenda possa sufficientemente essere controllata in un ambiente domestico L'avvocato Di Loreto, l'unico ad aver parlato con Cipressi Rivolge un pensiero ai familiari della vittima per una tragedia Dice che pone interrogativi a tutta la comunità Ora il suo stato d'animo credo che sia rappresentativo anche per un dolore Per il dolore che i familiari stanno avvertendo e sentono Traffico illecito di rifiuti all'interno di discarica abusiva Con questa accusa sono stati rinviati a giudizio sei persone coinvolte nell'inchiesta sull'aeroporto dei parchi di Preturo Traffico illecito di rifiuti speciali in discarica abusiva Con questo atto d'accusa sono stati rinviati a giudizio a vario titolo L'amministratore unico dell'Express Società che gestisce l'aeroporto dei parchi di Preturo all'Aquila Giuseppe Domizio Musarella Il direttore commerciale Ignazio Caramonte L'ingegnere comunale Mario Corridore Il responsabile per l'ufficio sviluppo dello Scala Aquilano Piero Negrini Socio e comandatario della società Delta Impianti Rachele e Antonio Lunari Amministratore unico e titolare della ditta nomonima di trasporti In particolare Musarella, Corridore e Chiaramonte come scrive il messaggero Ricevevano i materiali facendoli scaricare nella zona nord dell'aeroporto di Preturo Con Negrini e Lunari Invece accusati di aver trasportato e scaricato i rifiuti speciali Il processo è stato fissato a maggio 2017 A fine 2014 forestale, finanze e polizia eseguirono dei decreti di sequestro preventivo Emessi dal GIP e dal Tribuna dell'Aquila Guendanina Buccella Nonché un decreto di sequestro provatorio di una parte dell'area interna all'aeroporto Di proprietà del Comune dell'Aquila e gestita dalla società Xpressa Di sei auto carri di proprietà delle due ditte coinvolte nell'inchiesta Oltre che di beni dell'Axpress per un valore di 36.000 euro I provvedimenti sono giunti al termine di una lunga indagine Durata diversi mesi e mirata alla verifica delle procedure di smaltimento dei rifiuti Stando alle risultanze con mezzi pesanti appartenenti alle ditte Delta Impianti dell'Aquila e Lunari SRL di Rieti Erano stati illecitamente trasportati, scaricati e smaltiti Senza le prescritte autorizzazioni ingenti quantitativi di macerie L'obiettivo era realizzare a costo zero Grazie ai materiali di risulta che sarebbero poi stati ricoperti La nuova area di sicurezza di fine pista Avente la finalità di riduzione del rischio per gli aeromobili In caso di atterraggio lungo o di uscita fuori pista Durante la fase investigativa si è potuto accertare Che le ditte di trasporto prelevavano tramite loro autocarri Da quattro cantieri edili insistenti su edifici demoliti Terra e materiale di risulta Per poi trasportarlo e scaricarlo all'interno dell'area aeroportuale Ora il Comune dell'Aquila si è costituito parte civile Chiedendo il risarcimento di 550 mila euro Non solo per il danno d'immagine Ma anche perché i lavori di allungamento e completamento della pista Non sono mai stati completati Operazione dei carabinieri dei NAS nelle province di Pescara e Teramo Scoperti ambulatori odontoiatrici abusivi e falsi medici dentisti Per i quali sono scattate le denunce alla Procura della Repubblica Alfredo Primante Gestivano un ambulatorio odontoiatrico in provincia di Pescara Ma i NAS hanno portato avanti un'analoga operazione anche in provincia di Teramo I militari hanno individuato un ambulatorio odontoiatrico completamente abusivo All'interno di un appartamento non c'erano i necessari requisiti igienico-sanitari e strutturali I tubi idraulici delle apparecchiature erano stesi pericolosamente sul pavimento Collegati alla rete idrica e fognaria domestica Mentre il compressore dell'aria era installato nel servizio igienico L'intero immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo E il proprietario, l'odontoiatra che operava nello studio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica Cresce il taglio sul trasporto pubblico da parte del Governo che arriva a 10 milioni di euro L'Abruzzo subisce un nuovo colpo che inciderà ancora di più sul territorio Dopo i rincari delle corse e i tagli delle tratte La CGL chiede l'intervento della Regione per arginare i danni ai cittadini Francesca Romana Tessi Ancora tagli per i trasporti, ancora un colpo all'assetto della Regione Abruzzo Se la preoccupazione fino a qualche mese fa era quella di una decurtazione di quasi 8 milioni di euro A causa di obiettivi mancati, secondo i parametri nazionali A questi si aggiungono altri 2 milioni La CGL lancia un allarme che ora attende una reazione da parte della Regione Per quelle regioni che non raggiungono determinati obiettivi Tre in particolare l'incremento dei passeggeri trasportati L'incremento del rapporto costi-ricavi Il mantenimento dei livelli occupazionali Vengono applicate delle penalità L'applicazione di queste penalità ha riguardato in particolare le regioni del Mezzogiorno Le regioni del centro-sud Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Marche Non ci sono Sicilia e Sardegna perché sono regioni a statuto non ordinario, a statuto speciale Per l'Abruzzo questa penalità comporta una riduzione di risorse per ben 8 milioni di euro A cui se ne devono aggiungere ulteriori 2 milioni di euro Per quel taglio ulteriore che c'è stato sul Fondo Nazionale dei Trasporti Questo comporta una situazione molto preoccupante Il vero nodo della questione ruota sul concetto che se la Regione Abruzzo Non è stata in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati Quando già percepiva i fondi nazionali destinati ai trasporti Dopo una decurtazione così ingente Se tenendo fermi i parametri nazionali sarà quasi impossibile recuperare il terreno perduto Noi chiediamo innanzitutto che quei criteri attraverso i quali si applicano quelle penalizzazioni Vengano profondamente riviste Tra l'altro ci risulta che in una recente riunione della conferenza Stato-Regione Anche altre regioni hanno chiesto di rivedere quei parametri e quei criteri Ecco chiediamo che la Regione Abruzzo La rappresentanza politica in Regione e in Parlamento dell'Abruzzo Contribuisca a far sì che quei criteri vengano profondamente rivisti Perché penalizzano fortemente le regioni in particolare del centro-sud Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari Si rivolge alla Corte dei Conti per accertare eventuali danni erariali Per l'affitto della PET diagnostica da parte della ASL di Pescara Paolo Renzetti Un esposto alla Corte dei Conti per accertare se ci siano stati danni erariali Da parte della ASL di Pescara relativi al contratto di locazione per il macchinario diagnostico PET Ad affermarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari Che ad oltre un anno dalle due interrogazioni che hanno portato alla luce la nostra questione del macchinario Torna a chiedere spiegazioni sulle proroghe d'affitto A seguito delle nostre denunce nel gennaio del 2016 hanno aggiudicato l'appalto per l'acquisto e l'installazione del macchinario Tra l'altro al piano terra di medicina nucleare Purtroppo ad oggi ancora non si fa nulla Perché denunciamo questo? Uno il danno economico che a nostro avviso ci potrebbe essere, lo valuterà la magistratura Due perché i pazienti vengono iniettati del radiofarmaco al piano interrato, reparto di medicina nucleare E sono costretti i poverini a salire al piano terra, ad uscire fuori, a salire nel camion Quindi percorrendo un tragitto non dedicato ed entrando in contatto con donne, donne incinte, bambini Le ragazze che sono lì all'accoglienza, all'info point E possono mettere a rischio perché loro sono appunto iniettati in un radiofarmaco E possono anche contaminare, potrebbero contaminare, dire, radiazioni Quindi non è più concepibile che in un paese civile ci sia questa cosa Se avessimo acquistato al suo tempo questa apparecchiatura Avremmo risparmiato oltre 5 milioni di euro E noi diciamo la nostra proposta con quei 5 milioni di euro Potevamo acquistare un nuovo acceleratore lineare Che oggi serve per fare la radioterapia Magari un acceleratore lineare all'avanguardia Che andrebbe a colpire direttamente il problema Il tapiro d'oro all'ASL di Teramo questa mattina per i fumatori negli uffici E per l'uso dei parcheggi riservati ai disabili da parte del personale Vediamo La troupe di Striscia la Notizia con a capo Valerio Staffelli Ha consegnato questa mattina il tapiro d'oro al direttore generale dell'ASL di Teramo Roberto Fagnano La redazione della famosa trasmissione televisiva è stata allertata nei mesi scorsi Per i parcheggi riservati ai disabili nella struttura sanitaria incontrata a Casalena Spesso occupati da dirigenti e dipendenti del servizio di prevenzione dell'ASL Così Valerio Staffelli si è recato nella sede dell'ASL di Teramo in circonvalazione Ragusa Per consegnare il famoso tapiro al direttore generale Il manager Fagnano ha accettato e ringraziato Staffelli e la sua troupe Per averlo messo al corrente delle pessime abitudini di alcuni dipendenti E ha promesso che a partire da oggi adotterà una linea dura nei confronti di chi non rispetta le norme Anche applicando sanzioni disciplinari Valerio Staffelli ha apprezzato le dichiarazioni del direttore Fagnano E ha detto, come d'abitudine, che tornerà a trovarlo tra qualche tempo Per verificare se le promesse saranno state mantenute E una delegazione del Pescara Calcio, capiterata dal tecnico Massimo Oddo Ha fatto visita al reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale di Pescara Regalando un sorriso ai piccoli pazienti Vediamo Un gigante lo sarà sembrato di sicuro davanti a quei piccoli pazienti E non solo per l'altezza, il tecnico del Pescara, Massimo Oddo, ha dimostrato levatura e sensibilità Questa mattina, insieme a una piccola delegazione di giocatori Tra i quali il capitano, Ledia Memuschai, Vincenzo Fiorillo e il team manager Andrea Gessa Ha percorso il lungo corridoio del reparto di oncoematologia dell'ospedale civile di Pescara Portando il suo saluto a grandi e piccini La sua onlus ha destinato una raccolta fondi per il sostegno delle attività in corso E oggi è avvenuto l'incontro con pazienti e addetti ai lavori Ti rendi conto delle difficoltà della vita Questa purtroppo è la cruda realtà di quello che può aspettare nella vita questi bambini Non è la prima volta per me venire in questi reparti Purtroppo è molto dura Molto dura entrarci perché è facile la commozione È facile non stare bene Però purtroppo noi siamo Fortunatamente noi siamo personaggi pubblici Che possono con una semplice presenza magari regalare un sorriso È poco però nella durezza della vita che c'è in questo momento per questi bambini Anche un semplice sorriso è importante La solidarietà diventa sempre di più una risorsa indispensabile per le attività ospedaliere Sottoposta ai tagli governativi L'Agbe ha ricordato anche in questa occasione Quanto importante sia ogni piccolo gesto rivolto a chi si trova in difficoltà Massimo Oddo e la Pescara Calcio diventano l'ennesima dimostrazione Di come sia possibile migliorare l'adeggenza in reparto e l'attesa delle terapie Innanzitutto con collaborazione per ringraziare Oddo per la sua presenza E la presenza dei calciatori che hanno portato un sorriso oggi al nostro reparto Sono felicissimo di questa visita e appunto li ringrazio veramente di cuore Poi sapete benissimo qual è il nostro copo e perché siamo nati Noi siamo un gruppo di genitori che appunto si sono conosciuti qui al reparto di Oncromatologia Abbiamo cercato di non abbatterci di fronte al dramma della malattia Ma cercare di dare un senso alla vita di questi bambini E appenne genitori e alunni della scuola Mario Giardini sono scesi in piazza Per chiedere una soluzione alle problematiche strutturali dell'edificio Vestina News Noi chiediamo per Mario Giardini un luogo che ci possa accogliere Noi abbiamo necessità e urgenza di un edificio innanzitutto sicuro Che ci dia la possibilità di dire ai nostri bambini state tranquilli Perché noi qua possiamo lavorare senza correre nessun rischio E due vogliamo lavorare insieme Noi siamo abituati ad essere un corpo docente unito Noi abbiamo colleghe per esempio della prima che stanno alla scuola dell'infanzia Vanni in via Caselli Che non vediamo mai E quindi anche lo scambio tra docenti che è fondamentale in questo momento non c'è Noi a questo punto, visto l'episodio del 3 ottobre dove purtroppo in classe di mia figlia Le mura separatorie hanno dato dei problemi E noi vorremmo i moduli L'unica cosa sicura E nel frattempo chi deve prendere le decisioni le può prendere con tutta calma Qualsiasi decisione prenda purché sia sicura E' una realtà quella che stiamo vivendo purtroppo difficoltosa Noi speriamo che l'amministrazione comunale risolva al più presto la nostra situazione Che vede non solo i docenti coinvolti ma vede gli alunni, le famiglie Che sono state costrette praticamente a ribaltare le loro abitudini Quindi chiediamo al più presto un edificio nuovo Nuovo nel senso che un edificio in cui andare sicuro Dove svolgere le nostre attività Per cui è un patrimonio che la comunità pennese e la comunità scolastica in toto non può perdere Sviluppare azioni finalizzate a far sì che i comuni abruzzesi diffondano e promuovano Tra i propri concittadini la pratica del compostaggio domestico Questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa denominato Mondo Compost 3 Siglato Samani tra Regione e l'Ecoistituto Abruzzo Vediamo La Regione Abruzzo prosegue la marcia verso le politiche ambientali Finalizzate alla gestione integrata dei rifiuti Attenzione speciale poi al compostaggio domestico Quello che prevede di gestire in proprio la frazione organica presente nei rifiuti solidi urbani L'Abruzzo secondo i dati raccolti ha raggiunto percentuali che la rendono regione virtuosa Quella di oggi che riguarda il tema del compostaggio domestico È un segmento del quadro dell'economia circolare Come altri ne abbiamo perseguiti Per quanto attiene i rifiuti elettrici ed elettronici Quelli da carta e cartone Per cui la Regione Abruzzo è la prima Regione del Sud Per quanto attiene anche il discorso della plastica L'attività che abbiamo svolto insieme al Correpla Insomma tutti questi segmenti che poi alla fine ci hanno fatto avere questa performance Che dicono almeno i dati reali Ancorché in nostro possesso Ancorché non ancora ufficiali Che la Regione Abruzzo in termini di differenziazione dei rifiuti Veleggia su percentuali superiore al 60% Ma se da un lato cresce il bisogno di convertire le Regioni Alla raccolta integrata ed ecosostenibile dei rifiuti Dall'altra la notizia è quella di un inceneritore Che dovrebbe essere accolto dalla nostra Regione Per un decreto del Governo Secondo me non solo può evitare e deve evitarlo Ma è nei fatti già un'ipotesi estremamente remota Perché non ce ne sono le condizioni Perché c'è la possibilità di agire diversamente E soprattutto perché se uno va a considerare i tempi Per la realizzazione di un piatto così fatto Arriveremmo credo ben oltre il 2020 Quando noi in termini di produzione dei rifiuti Dovremmo essere perseguendo queste politiche Come stiamo facendo ormai da qualche tempo Ben lontani da quell'evenienza E tra gli appuntamenti dal 26 ottobre Con il appuntamento con il Cerrano Family Festival A promuovere l'iniziativa sono quattro comuni Pineto, Silvi, Roseto degli Abruzzi e Atri come capofila Vediamo Prendere il via il prossimo mercoledì 26 ottobre La maratona di iniziative rientranti nel progetto Cerrano Family Festival Inserito nella più ampia iniziativa Abruzzo Open Day Winter Fino al primo novembre nei comuni di Atri, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi Visiteranno appuntamenti legati alla cultura, allo sport, alle tipicità e alla creatività Con l'obiettivo di mettere in rete le attività degli interventi dei diversi soggetti Che agiscono nei processi culturali di promozione del territorio E di valorizzazione del patrimonio storico-artistico e della cultura dell'area del Cerrano Atri punterà sulla creatività Roseto degli Abruzzi orienterà il suo operato verso iniziative legate alla gastronomia Silvi, oltre all'attenzione per la gastronomia Darà spazio anche a mostre fotografiche legate alle donne e alle tradizioni locali Pineto invece punterà sullo sport Il valore aggiunto è la cooperazione Il fatto che partendo dal territorio la regione non si affida più a una politica dettata dall'alto È una politica bottom-up che vuole coniugare le esigenze del territorio Ma le vocazioni del territorio e qui siamo alla presenza di forse uno dei territori più belli di questa regione Le terre del Cerrano, Roseto, Atri, Pineto e Silvi messe insieme che fanno questo valore aggiunto Che da soli forse comporterebbe una visione piuttosto pauperistica E non consentirebbe una programmazione più seria e più a lungo termine Sono stati costruiti diversi appuntamenti Il teatro si occuperà appunto dei giovanissimi Con laboratori creativi Quindi diamo la possibilità ai giovani nell'arte di esprimere le loro attitudini 29-30-31 il Palazzo Ducale si trasformerà con i mattoncini Lego In un'area gioco e dispositivo straordinario Per la prima volta insieme costruiamo un progetto Per questo splendido territorio che sono appunto le terre del Cerrano Abbiamo lavorato tutti assieme e abbiamo ottenuto direi un buon risultato E torna anche quest'anno a Senarica di Crogna Leto l'appuntamento autunnale Con la festa della castagna in scena sabato e domenica prossimi Si rinnova anche quest'anno a Senarica di Crogna Leto l'appuntamento autunnale Dedicato al pregiato marrone locale e torna anche il premio dedicato alla castagna Ogni anno noi diamo questo premio della castagna d'oro L'unzite d'oro ad un personaggio che si è elevato nell'attenzione del nostro territorio Dei nostri territori dell'entroterra Quest'anno abbiamo individuato di concerto con la popolazione Con il presidente, il dirigente dell'istituto di Poppa La professoressa Caterina Provvisiero verrà insegnita il giorno di domenica alle ore 16 Quindi nella massima affluenza della manifestazione stessa della castagna d'oro Sabato alle ore 10 apriamo gli stand Poi ci sarà l'arrivo della banda musicale Città di Accumuli La sera avremo il concerto in i Delta Sound E quindi un DJ chiuderà la serata La giornata di domenica invece la apriamo alle ore 9 Con l'apertura degli stand Quindi ci saranno degli artisti circensi che aglieteranno la mattinata Nel pomeriggio avremo un bellissimo spettacolo Fatto dagli Exentia e i due comici Pablo e Pedro Quindi ci sarà la consegna dell'unzito d'oro E chiuderemo la serata sempre con un DJ Quest'anno di concerto insieme alla Prologo Al presidente abbiamo deciso di spostare Il laboratorio di pensiero in un laboratorio di solidarietà Abbiamo invitato la collettività di Accumuli Con la banda del paese che sarà con noi E con una folta delegazione del paese stesso Fin dall'inizio ho puntato su questa Repubblica di Senarica Adesso è logico che raccolgo i frutti Perché sto toccando con mano dai ristoranti Qualche postoletto Dall'affluenza nonostante il periodo Sto toccando con mano che la promozione del territorio Fatto in una certa maniera paga Esiterà domani invece a Villa Santa Maria La festa nazionale del cuoco Nel piccolo centro del Mediosangro Si confronteranno 500 chef provenienti da tutta Italia Vediamo Assessore Pepe La festa nazionale del cuoco di Villa Santa Maria Rappresenta un appuntamento importante Perché l'enogastronomia è una delle eccellenze della nostra regione Ospitiamo con piacere la festa nazionale dei cuochi Grazie alla collaborazione della federazione e dell'Unione A Villa Santa Maria è un luogo per eccellenza Dedicato alla cucina, alla buona cucina La formazione e informazione Grazie all'istituto di Villa Santa Maria Domani ci sarà un evento fondamentale Per la promozione della nostra economia agricola Oltre 500 chef provenienti da tutta Italia Saranno a Villa Santa Maria Per fare festa ma anche per fare informazione Comunicazione circa la nuova cucina italiana Domani a Villa Santa Maria Questa festa nazionale del cuoco Un appuntamento importante con tanti chef Che arriveranno da tutta Italia E' importantissimo anche perché è la prima volta Che praticamente via la festa nazionale del cuoco E si svolge interamente a Villa Santa Maria Quindi avremo un'invasione di colleghi nel mio caso Ma di chef da tutta Italia E quindi faranno visita a quelli che sono I luoghi anche del nostro santo patrono Che è San Francesco Caracciolo Poi la giornata si svilupperà in due momenti La mattina con una serie di show cooking Di chef stellati all'istituto alberghiero Poi nel pomeriggio una processione Una santa messa in onore del santo Per cui parteciperanno tantissimi chef E passiamo ora alla pagina sportiva Dopo lo stop di ieri per un virus intestinale E' tornato ad allenarsi nella odierna seduta pomeridiana L'attaccante Baebec Il francese dunque potrà essere della partita Sabato prossimo contro la Sampdoria Allo stadio adriatico Cornacchia Ancora parte Verre Ascoltiamo il centrocampista Alberto Aquilani Candidato ad una maglia da titolare Io capisco che c'è molta attesa Molta fiducia Quindi sono contento Sono a disposizione del ministro al 100% Da quando sono arrivato Se non ho giocato sono state scelte dall'allenatore Condivise anche con me Per il bene della squadra E per il bene del pescara Qui abbiamo tutti un intento Tutti un obiettivo E' quello di salvarci E siamo tutti sulla stessa direzione Ovvio che il campionato è lungo Mancano tante partite E quindi penso che la strada da percorrere E' quella che abbiamo intrapreso Poi si può vincere Si può perdere Dobbiamo cercare di vincere Perché comunque sia Poi si gioca bene Tutto quello che vuole Ma alla fine poi contano i punti Quindi io sono fiducioso La seconda sosta della stagione Permette anche di fare un primissimo bilancio Di queste prime sette giornate Il bottino di punti che vi aspettavate Sì, io credo che più o meno siamo lì Credo che abbiamo affrontato Le squadre molto forti Perché comunque sia Napoli, Inter Sassuolo fuori casa Genova fuori casa Squadre difficili da affrontare Quindi io credo che Forse giusto la partita col Chievo Poteva andare meglio Soprattutto sotto il profilo del risultato Detto questo Ti ripeto I conti facciamoli alla fine Non li facciamo né prima né durante Ovvio che poi Fa parte un po' del gioco Tutti questi discorsi che si fanno Però io credo che Ci sono le basi per poter far bene E ce la metteremo tutta per riuscirci Pesa dopo sette giornate Non essere riusciti ancora A portare a casa la prima vittoria sul campo È un problema a livello psicologico? Forse un po' sì Forse un po' sì Perché comunque sia Vedi che appunto nella casa delle vittorie A parte la vittoria ottenuta a tavolino Giustamente Perché comunque è stato fatto un errore lì Con il Sassuolo Può pesare Però come ti ripeto Dobbiamo anche stare un po' tranquilli Anche aspettare Non farci appunto prendere dall'entusiasmo Se le cose vanno bene E non deprimerci se magari non arriva la vittoria Perché altrimenti entriamo in un vordice Che non ci fa bene E Zeman è tornato in Abruzzo E stamani ha partecipato All'evento del Miglianico Golf Club Che ha preceduto La tappa abruzzese Dell'Aztur Che inizierà domani Con il tecnico Boemo Abbiamo chiaramente parlato del Pescara Il servizio di Paolo Sinibaldi Mister Zeman Quando torna in Abruzzo Baci e abbracci A tanti amici che hai lasciato qui Anche al Miglianico Golf Club Perché io mi sono trovato bene Penso che anche la gente Ha apprezzato quello che abbiamo fatto Quell'anno E quindi Non credo che ci sono molti nemici In Abruzzo Lei ha ricordato Per quella magnifica stagione Davvero indimenticabile Quanto tempo è passato Anche nella sua testa Da quel momento Perché qui è molto ben presente Quel campionato in Abruzzo Vabbè È passato tempo Però io seguo sempre Io seguo sempre I giocatori che c'erano Non solo Non solo i tre Ma anche Magari Balzano Cascione Conè Quei ragazzi Romagnoli Quei ragazzi che c'erano E che hanno fatto Di tutto Per far Sentire Pescara Importante Le faccio Un'ultima domanda Quella banale Classica giornalistica Se segue ancora il Pescara Se conosce Oddo Insomma Cosa pensa di questo campionato Di Serie A per il Pescara Che ovviamente Si annuncia molto difficile Vabbè Seguo Pescara È normale Che lo seguano Poi sul suo oddo Io lo conosco più Da giocatore Che da allenatore Un ragazzo Che ha fatto bene L'anno scorso Ha portato la squadra In Serie A È normale Che bisogna Bisogna Abituarsi A Serie A E penso Che c'è ancora tempo Per poter Far vedere Che Pescara Può rimanere In Serie A E può giocarsela Con tutti E dopo Quattro sconfitte Consecutive La matricola Pineto Ha sollevato ieri Dall'incarico Aldo A Mazzalorso E ha affidato La squadra A Daniele Amaolo Esperto allenatore Marchigiano Già noto In Abruzzo Per aver allenato Morrodoro E Renato Curiangolana Con Amaolo La dirigenza Pinetese Confida di risalire La classifica E fermare La lunga sequenza Di infortuni Patita Dai giocatori Roberta Di Sante Diamo il benvenuto A mister Daniele Amaolo Qui a Pineto Mister Innanzitutto Come hai accolto Questa notizia Insomma Questa scelta Beh Sempre con entusiasmo Ho fatto piacere La chiamata Di una società Importante Come il Pineto Che in questo momento Forse è il fiore d'occhiello D D D Per quanto riguarda L'Abruzzo Quindi una delle migliori Società In circolazione Ha un progetto Importante Questo Mi ha spinto Ad accettare La proposta Di questa società E quindi Quando Poi avviene questo Cerco di Tirare fuori Il meglio Di me stesso E cercherò Di trasmettere Il mio entusiasmo La mia voglia Di lavorare Con i ragazzi Per raggiungere Il traguardo Il traguardo Che la società Si è prefissato Mister Tu sei abituato A portare A prendere squadre In corsa Magari anche Con situazioni Di classifica Un po' Difficile E poi A portarle Alla salvezza Che cosa puoi dare In più A questo Pineto Beh Un po' Di esperienza Da questo punto Vista Ne ho Ecco E' chiaro Che poi Non ho la pacchetta Magica Quindi magari Dobbiamo Dare un po' Trovare Un'inversione Di rotta Tutti quanti Ci dobbiamo Rimettere in discussione A partire da me Perché non si va avanti Per quello Fatto negli anni passati Cercando di preparare Al meglio Le partite Dare delle risposte L'obiettivo nostro È quello di lavorare E far sì Che chi ci ha scelto Ecco Rimanga soddisfatto Il nostro lavoro Ed è tutto Per questa seconda edizione Della TG6 L'appuntamento Con l'informazione Di TV6 Torna puntuale Alle ore 23 Grazie per l'attenzione E buon proseguimento Grazie per l'attenzione Grazie per l'attenzione